Sapete quali sono gli eroi del nostro tempo? Sono i tanti sanitari, infermieri e medici che in questi giorni stanno lavorando 24 ore su 24 per salvarci la vita, per aiutarci nell'emergenza coronavirus. Cosa possiamo fare noi cittadini per dar loro una mano? Mantenere dei comportamenti corretti. In questo momento dovete stare a casa. State a casa, riscoprite il piacere di stare con la famiglia, riscoprite anche i momenti di noia, perché no? Ma state a casa, ci sarà un momento nel quale potremmo riprenderci la nostra vita di prima. Ora bisogna stare a casa.